Oggi si festeggia il Beato Francesco Fa di Bruno, l'ufficiale dell'esercito, professore convertito. Francesco Fa di Bruno è uno dei cosiddetti santi sociali piemontesi, quei santi cioè che hanno dedicato la loro vita alle opere di misericordia, alle attività caritative, alle attività sociali come per esempio Don Giovanni Bosco, il Murialdo, il Caffasso, il Cottolengo. Era l'ultimo dei dodici figli del Marchese Ludovico di Alessandria e della nobildonna Carolina Sappa dei milanesi. Aveva avviato la carriera militare e conseguito il grado di capitano di artiglieria durante la prima guerra di indipendenza. Ferito e decorato nella battaglia di Novara, divenne ufficiale di stato maggiore e aiutante di campo del principe ereditario Vittorio Emanuele. Aveva studiato nel collegio dei padri somaschi della città di Novi Ligure e poi a Parigi. Laureatosi in scienze matematiche e in astronomia si rivelò un uomo di grande talento, cartografo, matematico, scrittore, inventore, musicista, costruttore, costruttore del più alto campanile di Torino. È stato docente all'Università di Torino da prima di geometria superiore e poi docente di analisi matematica nonché consigliere della Casa Reale. A Parigi aveva conosciuto i fratelli della società di San Vincenzo dei Paoli, i vincenziani, ed era rimasto colpito dai loro esempi, esempi di fede e di carità, colpito al punto che un giorno decise di lasciare l'esercito per dedicarsi anche lui ai bisognosi. Ha fondato una specie di città delle donne, la città conosciuta come l'opera di Santa Zita, con l'intento di aiutare le donne, le donne di servizio, a trovare un lavoro dignitoso. Queste donne semi-analfabete che l'industrializzazione aveva spinto in città si impiegavano presso le case dei Parbni, i borghesi, e qui spesso erano costrette a sottomettersi a orari veramente disomani, quando non a comportamenti purtroppo immorali, senza alcuna garanzia, perché quando invecchiavano o si ammalavano venivano licenziate senza nessun complimento. Francesco le aiutò dando vita anche ad un istituto, un istituto per ragazze handicappate, e a una infermeria per le donne convalescenti. Per continuare nelle sue opere caritative, Francesco accolse il consiglio di farsi sacerdote, così era più libero di farlo, e la qualcosa avvenne grazie proprio all'intervento del Papa, Papa Pio IX. Più tardi Francesco affiancò all'opera di Santa Zita una nuova istituzione femminile, la congregazione delle suore minime di Nostra Signora del Suffragio, il suffragio appunto, cioè la preghiera incessante per le anime del purgatorio, nonché per assistere quel proletariato del proletariato che a quel tempo erano le serve, sfruttate dalla nuova borghesia formatasi con lo sviluppo della società industriale. Il Beato Francesco aprì nuovi pensionati per anziani, per le donne più povere e per quelle malate, nonché per i sacerdoti malati che non avevano sufficienti cure mediche e non avevano l'aiuto per condurre una vita dignitosa. Portò avanti le nuove opere contando quasi esclusivamente nella divina provvidenza. Sontanto una volta il Beato ebbe dal governo l'assegnazione di un misero contributo, un contributo per una mensa popolare. Le cose però non andarono per il verso giusto, perché Francesco ottenne sì quell'aiuto economico, però a un patto, che gli operai mangiassero al chiuso, onde evitare, si diceva, di disturbare la vista della gente, quella gente che non gradiva vedere e incontrare quello spettacolo. Fa di Bruno non accettò quei condizionamenti, i condizionamenti posti dal governo e indignato rifiutò quell'aiuto utilizzando i pochi averi che ancora egli possedeva. È stato beatificato da Giovanni Paolo II nel 1988, esattamente un secolo dopo la sua morte. E noi nel giorno del Beato Francesco fa di Bruno, il Beato delle opere sociali, noi preghiamo così. Maria, madre dai poveri e dai piccoli, di quelli che non hanno nulla, che soffrono solitudine perché non trovano comprensione in nessuno. Grazie per averci dato il Signore. Ci sentiamo felici e col desiderio di contagiare molti di questa gioia, di gridare agli uomini che si odiano, che Dio è Padre e ci ama, di gridare a quanti hanno paura, non temere, e a quelli che hanno il cuore stanco, avanti, che Dio ci accompagna. Madre di chi è in cammino, come te, senza trovare occoglienza o ospitalità. Insegnaci a essere poveri e piccoli e non avere ambizioni, a uscire da noi stessi e a impegnarci a essere i messaggeri della pace e della speranza. Che l'amore viva al posto della violenza, che nella verità, giustizia e amore nasca la vera pace di Cristo, da Tui come Chiesa, siamo sacramento. Amen.